C'è chi prova a combattere il degrado a colpi di ordinanze e chi pensa che l'arma più efficace sia invece l'arte. Tra i secondi c'è la fotografa goriziana Giulia Candussi che ha dato vita al ballerina Project Venice, un progetto fotografico che riprende quello ideato a New York nel 1999 poi diffusosi in altre grandi città del mondo. L'idea nasce dal fatto che Venezia è riconosciuta in tutto il mondo come una città d'arte e di bellezza mentre molti veneziani e tanto meno i turisti sanno che ci sono delle aree completamente degradate che a mio parere hanno un grande potenziale se fossero rivalutate e ristrutturate. Aree consegnate all'oblio e alla desolazione che tornano improvvisamente alla vita diventando per qualche minuto il teatro dell'evoluzione di ballerine e ballerini per uno scopo semplice e potente. Dare bellezza a questi posti che hanno un fascino particolare attraverso l'arte della danza. Si spera così di stimolare il recupero di aree urbane ancora piene di potenzialità attraverso il lavoro dei ballerini di danza classica e contemporanea che hanno aderito volontariamente al progetto. Tutti hanno avuto una grandissima disponibilità ad adattarsi in dei posti assolutamente inconsoni per la danza a sporcarsi, arrampicarsi e quant'altro. Insomma quindi li ringrazio tutti. Diviso in varie serie di fotografie il progetto viene proposto alla cittadinanza in una mostra visitabile fino al 13 settembre al centro culturale Candiani ma non si accontenta di restare appeso alle pareti. Tra gli appuntamenti di questi 15 giorni anche spettacoli di danza e proiezioni cinematografiche. Grazie.